E' morto alle 11.45 di oggi a Senigallia Monsignor Mario Cecchini, vescovo emerito della diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola. Aveva 88 anni ed era malato da tempo. Il decesso è avvenuto nella casa di riposo Opera Pia Mastrai Ferretti di Senigallia. Mario Cecchini era nato a Piticchio di Arcevia, diocesi di Senigallia, il 25 gennaio 1933. Ordinato presbitero il 16 marzo 1958, eletto alla sede vescovile di Fano Fossombrone Cagli Pergola l'11 febbraio del 1986. Ordinato vescovo il 16 marzo dello stesso anno, è divenuto emerito l'8 settembre 1998. Da vescovo di Fano ha iniziato le trattative con il Vaticano per l'acquisizione dell'ex seminario regionale. Lavorò intensamente per l'unificazione delle quattro diocesi di Fossombrone, Cagli e Pergola con quella di Fano. Inoltre volle e inaugurò il santuario di San Giuseppe in Spicello di terre roveresche. Colpito da Ictus ha continuato a lavorare per la diocesi fanese senza particolari problemi. Ormai cieco e immobile ha trascorso gli ultimi anni di vita nella casa di riposo per sacerdoti e laici. Positivo al Covid-19, Cecchini è deceduto per complicazioni dovute a diverse patologie pregresse. La camera ardente verrà allestita nella cappella dell'Opera Pia Mastrai Ferretti a partire da domani mattina alle ore 9, mentre il funerale si terrà a venerdì 15 gennaio alle ore 15 nel Duomo di Senigallia.